L'ultima bolletta segna un importo pari a 12.000 euro, quasi il triplo rispetto allo scorso anno. Un'enormità rispetto ai costi di gestione del passato che getta qualche ombra sul futuro dell'attività. E' questa la condizione in cui versa lo stadio del nuoto di Bari, tra gli impianti più energivori della città e vittima del rincaro sui prezzi dell'energia. La struttura è stata affidata in gestione alla Waterpolo Bari, società che organizza corsi di nuoto e attività sportive dedicate ad adulti e bambini. Sì, la bolletta di luglio sicuramente ci ha spaventati. Sapevamo che andavamo incontro a un periodo difficile, però insomma quando leggiamo poi determinati numeri un po' di preoccupazione ci viene naturale. Luglio è stato un mese che abbiamo lavorato neanche a regime e sinceramente rispetto ai precedenti periodi abbiamo notato un triplicare almeno della bolletta elettrica. Per far fronte ai costi sarà necessario centelinare gli orari di apertura dello stadio del nuoto, attenuando i consumi durante le fasce giornaliere in cui si registra meno affluenza di utenti. Le soluzioni da adottare? Speriamo che il governo metta in campo subito degli aiuti immediati, perché noi riusciamo a fare ben poco se non a limitare un attimino l'utilizzo dell'impianto nelle fasce non molto frequentate. Il caro bollette sta creando non poche difficoltà a tutti i gestori delle piscine. Una soluzione potrebbe essere l'utilizzo di energie rinnovabili come l'installazione di pannelli fotovoltaici. Questo è un impianto comunale e quindi servirebbe un'operazione congiunta con l'amministrazione per far sì che investimenti di questo tipo siano facilmente realizzabili e poi ammortizzabili nel tempo dal gestore. Grazie.